un caro saluto a tutti voi telespettatori di tele belluno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con incontro con oggi parleremo di un libro che ripercorre le tradizioni della val di zoldo osterie di zoldo tra poesie e aneddoti e abbiamo qui il piacere di avere nostro ospite l'autore michelangelo corazza benvenuto grazie buonasera buongiorno ecco michelangelo lei è un autore molto prolifico insomma mi diceva prima che ha già scritto 42 libri no la sua vita si è spesa tra il lavoro di gelatiere e quello di appassionato di storia e cultura locale insomma questo è il suo 42esimo libro e parla proprio di un tema caro a tutte le vallate bellunesi insomma e di tradizioni che si stanno in parte perdendo ovvero le osterie che erano dei veri luoghi di ritrovo esattamente questo l'osteria qualche volta è vista sotto un punto di vista negativo da certi da così però non è proprio così anche in passato avevano magari dei fatti che lasciavano un po' l'amaro in bocca le baruffe così no però l'osteria è sempre stata un punto rincontro e anche fra virgolette una certa cultura perché si trovavano a quel tempo molti a fare gli affari all'osteria non era raro il caso che si incontrasse magari l'ingegnere con con l'impresario e così e facevano molti affari la così era vista l'osteria anche un punto di incontro nel dopo lavoro principalmente perché erano lavori faticosi dei lavori dei boscaioli dei manovali e la sera l'unico sfago così per trovarsi assieme per dialogare un po' era quel punto di riferimento però esisteva faceva sì che ci fosse una società coesa che oggi non sempre si mette in evidenza e certe volte sentiamo la carenza di coesione e ci siamo un po' nell'epoca dell'individualismo non ci si chiude in casa esattamente invece una volta come appunto si può vedere scorrendo le panze del libro ogni frazione aveva la sua osteria o quasi ogni frazione insomma quindi erano tutte le frazioni perché quelli che non avevano l'osteria con fuori scritto osteria così facevano lo stesso la osteria senza avere la licenza e molte osterie erano appunto così diremo abusive una gran parte delle osterie era stata aperta da gente che veniva ferita durante la guerra qualche mutilato di guerra avevano il diritto ad avere sì la patria li dava come riconoscenza la licenza per aprire un'osteria compreso sali e tabacchi ecco già questo è un tema che ci introduce insomma nel libro ci sono veramente moltissimi aneddoti no aneddoti simpatici ma anche aneddoti diciamo meno simpatici c'è una grande parte che del libro che riguarda anche la grande alluvione del 66 che in pratica ha segnato un po' una cesura tra un prima e un dopo si può vedere ma tra alcune cose che abbiamo insomma individuato alcuni aneddoti un sicuramente un aneddoto che vale la pena ripercorrere quello dell'osteria che aveva questo nome così strano la veloce questo uno degli aneddoti che magari è più rilevante perché ci sono anche degli aneddoti scurrilli diremmo bene a veloce non era altro che una nave che a fine ottocento partiva da genova e portava gli emigranti nelle americhe allora ha impiegato questo nell'ufficio di questa nave per sbrigare le pratiche di espatrio c'era un signore da braga ressa quel signore da braga ressa una volta rientrato in quel disoldo ha aperto l'ufficio qua e tutti coloro che volevano emigrare nelle americhe si rivolgevano a lui e lui faceva tutte le pratiche in modo che arrivassero a genova si imbarcassero e poi prendevano la direzione dell'america e era la fine del 1800 la nostra emigrazione è stata veramente intensa più di quanto si pensare devi immaginare che dopo l'alluvione del 1880 con lo straripamento dei fiumi tutte le fucine che erano dislocate alle parti del fiume tutte le fucine erano state annientate portate via sicché i famosi cionarot fra virgolette come li chiamiamo noi si sono trovati senza lavoro l'unico la montagna prevalentemente e soprattutto a quei tempi era molto povera e si viveva con il bestiame e con l'agricoltura le famiglie erano molto numerose e tra 1800 e nel 1800 tra 1892 e 1894 da soldo sono partite 34 famiglie in direzione del brasile dove c'era la famosa compagnia metropolitana che richiedeva operai dall'italia chiaramente perché era finita la schiavitù del 1888 ebbene questi con tutti i presupposti di una vita migliore sono partiti e per pagarsi il viaggio hanno pagato hanno venduto scusa la casa con il diritto di riscatto se fossero ritornati entro dieci anni cosa che non è accaduta per nessuna di quelle famiglie io sono stato in quel luogo e sono rimasto un meravigliato perché dopo cento anni i nipoti di questi eroici emigranti perché sono morti lontano fra la disperazione di non poter più ritornare cosa hanno fatto hanno trasmesso tradizioni cultura religione ai loro figli e nipoti e pronipoti e oggi parlano ancora il dialetto hanno coltivato la tradizione le tradizioni diceva un filosofo che ora mi sfugge il nome non è uno scavare nella nella cenere ma tener viva la fiamma cosa che oggi purtroppo molte volte e in molti paesi questa fiamma si è spenta ecco infatti insomma uno dei temi che lega questo libro appunto questa epopea dell'immigrazione bellunese appunto le osterie da un lato tradizione nel territorio ma appunto come abbiamo avuto modo di vedere anche l'epopea dell'immigrazione ma in questo libro le osterie erano frequentate principalmente da uomini ma in realtà erano spesso tenute e gestite anche da donne insomma ci sono molte storie di donne all'interno di questo libro in particolare mi aveva colpito quella delle due sorelle ginevra e mariuccia esattamente erano molte le donne che le gestivano sono diventate queste donne un mito che sono ancora ricordate perché dobbiamo sapere che l'osteria che fa l'osteria è principalmente chi sta dietro il banco in virtù della simpatia cinevra e mariuccia erano due sorelle gemelle sono nate premature e dicono che la notte per riscaldarle la mamma li portasse nella stalla sono state allevate il latte verde è quello che proviene dall'animale dalla mucca in questo caso dopo il parto c'è quel latte verde dicono che è sostanzioso sono state allevate così però effettivamente poi sono cresciute non erano molto alte erano però sempre impegnate nel sociale nei duri lavori della montagna erano donne veramente praticanti la chiesa e due donne che ancora oggi il loro ricordo non si è ancora stemprato specialmente nella zona alta a pecole a mareson ecco infatti oltre a ginevra e mariuccia ci sono molte altre donne si parla anche della prima minigonna e si parla di molti aneddoti un aneddoto curioso che mi ha colpito è quello che viene raccontato quando a zoppè arrivò primo carnera che era un autentico mito del pugilato italiano ricordo ancora si è scontrato era era uno di noi carnera praticamente sembrava di parlare con un tuo nonno così senza nessuna arroganza era venuto dopo aver visto a milano una riunione ripusilato nella quale aveva combattuto san carlo carbelli che ho conosciuto personalmente e sono arrivati come ospiti d'onore praticamente arriva nel bar a rozza questo carnera e c'era un uomo faceva tutti i lavori del comune anche il necroforo grande grosso no beveva anche un buono così e per scherzo ha visto che c'era questa la fama si era diffusa in tutta la valle e perché prima di andare in alzopè di cadore si soffermò a rozza praticamente era la tranquillo carnera e questo entra la cosiddetta via fa finta di sfidarlo e carnera aveva già 60 65 anni lo prende e se lo prende come un bamboccio così ma sempre sorridondo senza è stata una scena che è rimasta impressa ancora oggi nel in quelli che l'hanno vista o sentita infatti carnera non per niente era chiamato il gigante buono no siamo praticamente in conclusione però è giusto ricordare che questo libro è stato possibile anche grazie alla collaborazione di molte persone della valle tra le quali è giusto ricordare in particolare colui che anche un nostro collaboratore di tele belluno che eugenio piva eugenio piva è l'amico del cuore io lo riferisco un mito il federico fellini della valle di soldo eugenio è da ogni parte quando c'è un evento sia un evento religioso un evento culturale un evento musicale se lo vede da per tutto e ha un repertorio che risale a 50 anni fa lo fa col passione lo fa con il cuore e ha fotografato tutto e tutti senza ricevere mai una lira lui lo fa così gratis per esprimere il suo animo di amore nei confronti della sua valle solamente solamente una cosa non ha mai fotografato un funerale questo per scaramanzia io prego il signore che ce lo lasci per tanti tanti anni ancora perché la val di soldo li deve molto lo ricco pubblicamente un bravo e un grazie eugenio è sì il grazie eugenio è anche nostro proprio perché collabora da tempo anche con noi il tempo adesso è definitivamente scaduto io non posso che ringraziare michelangelo corazza per il tempo che ci ha dedicato e per averci trasportato in un mondo che sta scomparendo che quello delle osterie arrivederci e arrivederci anche a voi telespettatori e prossimi appuntamenti di incontro con grazie a tutti grazie a tutti